Daniele Radini Tedeschi è un concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Il Naufrago è un critico d'arte, scrittore e personaggio televisivo italiano. Nella clip di presentazione del reality show ha dichiarato di non essere interessato a risultare simpatico e infatti appena sbarcato in Honduras ha avuto diversi scontri con gli altri naufraghi. Daniele Radini Tedeschi è discendente della famiglia nobiliare dei Radini Tedeschi di origine svizzera e ha studiato storia dell'arte moderna all'Università La Sapienza di Roma. Ottenendo la laurea con l'Ode ha ottenuto diversi riconoscimenti per i suoi contributi nel campo della storia dell'arte, tra cui la Daustum Doctrinarum a Napoli per i suoi meriti artisti. Daniele ha curato diversi eventi culturali importanti, come il convegno all'Accademia Nazionale dei Lincei su Giovanni Antonio Bazzi, ha partecipato alla conferenza internazionale di Uppsala su Caravaggio. È stato direttore artistico delle prime tre edizioni della esposizione triennale di arti visive a Roma e ha lavorato come commissario e curatore in diverse edizioni della Biennale di Venezia. La sua storia è stata raccontata durante la puntata andata in onda lunedì 22 aprile e il pubblico ha fatto una scoperta sul conto del concorrente. Non tutti infatti sapevano che anni fa, quando era soltanto un bambino, Daniele Radini Tedeschi ha partecipato a Scommettiamo che, la trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi. Fin da bambino, infatti, Daniele era appassionato di arte e durante la trasmissione doveva riconoscere il titolo e l'autore di un'opera. Il piccolo Daniele si classificò secondo suscitando grande interesse del pubblico ma anche del settore. La passione è poi diventata la sua vita lavorativa, come detto, oggi il naufrago è uno stimato critico d'arte.